Il Belgio Ogni anno il Belgio ti insegna come si può vincere e come si può perdere una corsa Credo che come è stata interpretata da parte di Sagan soprattutto al di là dei suoi 23 anni credo abbia sbagliato poco Sono molto contento e molto piaciuto di fare la prima parte del Belgio perché volevo vincere qualche grande classica Ho vincere il Gen 12 Ma anche il Flanders è andato bene E sono piaciuto per il secondo giro perché il Fabian è stato molto forte e penso che il mio futuro sta aspettando per me perché avevo pochi 10 anni Per la Canon del Procycling un'ottima campagna del Belgio Al di là dei risultati di Peter della vittoria alla Gamberg nel secondo posto del Fiandre e a Arelbeck Sono molto contento soprattutto della prestazione della squadra e di tutti i corridori hanno lavorato molto bene hanno supportato Peter nei momenti più difficili di queste corse e quindi sono fiducioso che otterremo degli ottimi risultati anche nelle prossime corse e tutti i nostri team sono stati molto bene e quando ho avuto alcuni problemi è sempre stato vicino con me e mi aiuta aiutare i miei risultati mi abbia chiamato grazie a tutti Grazie a tutti